La tela Salvatore, il terremoto di Vrera a me Palazzo Marino mi chiamano il terremoto di Vrera perché installo tutte le cose su una tela adesso ho installato delle tele delle tastiere di computer sulle tele le ho fatte diventare d'oro bisogna vedere il poveriggio il terremoto di Vrera grazie